chi ha detto che la 130 non salta? 100% Auri in test della della nuova SB 130 launch ride 2021 abbiamo fatto un primo giretto, quali sono le sensazioni? Lui viene dalla sorellona SB 150? Sensazioni bici polivalente molto pedalabile divertente nei salti e che dire una bici per fare un po quello che si vuole agile guidabile guidato da 100% Auri grazie dottor Mike per la prova alla prossima Ciao 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 Ciao